GERARDO MAROTTA Gerardo Marotta rappresenta la grande storia del Sud. La sua è una lezione straordinaria. Attraverso l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici ha fatto diventare Napoli un luogo di incontro del pensiero a livello mondiale. Ha fatto discutere al Parlamento europeo un appello per la filosofia. Ha ricordato la grande storia, i grandi intellettuali del Sud. E appunto per questo ci ha ridatto l'orgoglio delle nostre radici. Un intellettuale meridionale che guardava all'Europa, che guardava al mondo. E appunto per questo l'amministrazione comunale di Soveria Mannelli ha ritenuto opportuno ricordarlo. Non solo per avergli concesso vent'anni fa la cittadinanza onoraria, l'unica da cinquant'anni a questa parte, ma anche perché in questo modo il nome, il pensiero di Gerardo Marotta continua a rivivere attraverso questo luogo, attraverso questo simbolo, attraverso la casa delle idee del Comune di Soveria Mannelli. Grazie a tutti.